Sì Voglio fare colazione Diana Oh poverina Si stira la macchia Anna, tu Hai già fatto qualche chilometro Dai Cosa c'è? Guarda Un lugar che ti va Vai Vieni 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 i Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, oggi ho intenzione di girare un vlog. Sapete che non è, diciamo, il mio genere di video, infatti non li faccio praticamente mai. Però, non so, mi andava di farvi vedere una delle mie giornate tipo, diciamo. E non sarà proprio una giornata tipo, nel senso che in realtà, insomma, le cose che faccio bene o male sono più o meno quelle. Però, nel senso con l'eccezione che, diciamo, in più c'è Diana in casa. C'è Diana in casa perché abbiamo, diciamo, dovuto operarla e perché aveva, insomma, un tumore alla mammella. E durante l'operazione, praticamente, cosa è successo? Hanno visto che il tumore comunque era abbastanza brutto e quindi hanno preferito togliere anche l'utero. Perché, essendo appunto brutto, essendo nella mammella, praticamente c'era il pericolo che, magari non ponendolo bene, ecco, il tumore si trasferisse all'utero. Quindi, hanno preferito togliere tutto così almeno non si rischia niente. Solo che, poverina, è veramente in K.O. tecnico. Nel senso che, ieri sera siamo andate a prendere la parte l'ansia di tutto il giorno perché è veramente stato tremendo. Aspettare, insomma, una chiamata, aspettare di andarla a prendere, tutto quanto, è stato tremendo. E, in più, praticamente, avevamo intenzione di Anna, comunque, solitamente, lei sta, vive fuori, praticamente, lei non è abituata assolutamente a stare in casa. E, anzi, le ha proprio fastidio stare in casa. E abbiamo dovuto tenerla, appunto, in casa per forza perché, comunque, è stato un intervento abbastanza delicato. Comunque, era tutta intontita, bisognava stargli dietro. Quindi, stanotte, abbiamo preferito farla dormire proprio in casa con noi. Quindi, abbiamo dormito, dormito, tra virgolette, sul divano. Io sul divano e lei, appunto, giù, praticamente, sulla sua copertina. E, è stata tragica, eh. Si è lamentata tutta la notte, poverina. Cercava le coccole. Insomma, comunque, aveva male, povera Stellina. Adesso, oggi pomeriggio, mia mamma, insomma, mentre io sono a lavorare, Marco è a lavorare, la riporto al veterinario per, insomma, gli ultimi controlli. E, e dovremmo esserci, ecco. Speriamo, insomma, che sia tutto a posto. E, praticamente, non abbiamo dormito niente. Adesso ve la faccio vedere. Un po' da Stellina, non abbiamo dormito proprio niente, niente, niente. Lei, ancora meno di me, eh. Infatti, vedete. È lì che... È un po' intontita da Stellina. Guarda, mi fa una tenerezza vederla così, non poter fare niente. È veramente allucinante. Niente, allora, io direi che facciamo un po' di ordine, perché c'è un macello, c'è il letto da rifare. Cioè, direi, la cucina da mettere a posto, insomma, c'è un po' in generale da, insomma, da mettere a posto tutto. E iniziamo, perché sennò stamattina non ne usciamo vivi. E iniziamo, perché sennò stamattina non ne usciamo vivi. Comunque, credo che questo sia proprio il video della vergogna, perché mi avete visto in qualsiasi... In qualsiasi modo, cioè nel senso... Allora, prima con i capelli raccolti, adesso con i capelli bagnati, perché sono appena uscita dalla doccia. Cioè, vabbè, è veramente il video della vergogna. Lasciamo perdere. Nulla. Allora, come procede? Se sentite dei rumori, sembra Diana. Non so che video potrà venire, perché, vabbè. E non mi ricordo neanche se vi ho detto, in realtà, il giorno in cui siamo. Oggi siamo al 21 di marzo. In realtà oggi... Eccola lì. Sto facendo un casino, sto collare atrocio, vabbè. E' il 21 di marzo e, in teoria, siamo già in primavera da un giorno. Ma il tempo fa veramente schifo. Ora, aspettate che provo ad appoggiarvi qua, per vedere se... Ok, più o meno ci state. Il tempo fa schifo, quindi, vabbè, lasciamo perdere. E nulla. Vabbè. Non commento. Cioè, io sono un'amante dell'inverno. Io amo la follia all'inverno, però... Arriviamo poi a un certo punto in cui anche io dico basta. Cioè, basta, 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 basta. Vabbè, ma questo non c'entra niente con quello che volevo dire. Allora, dopo aver sistemato la camera da letto, volevo iniziare un po' a pulire il bagno. E oggi volevo iniziare a provare questi qua, i Fresh Stickers della DAC. Insomma, vediamo un attimo come sono. Poi ve ne parlerò, magari, appunto, in un videorecensione. Ah, quindi ce ne sono tre dentro. Sì. Sì, direi che ce ne sono tre dentro. Sì, giusto. Sono a Lime. Non lo so. Perché solitamente uso i DAC Fresh Disk. Sono buonissimi, a me piacciono tantissimo, però vengono in lira di Dio. Ora, questi qua... Però sono tre, vengono sull'euro e cinquanta, se non sbaglio. Però non so. Cioè, più o meno, secondo me, sono più o meno a parità di prezzo. Perché lì, invece, ci sono un po' di, diciamo, di dischetti da mettere. Quindi costano un po' di più, però ci sono più dischetti da mettere. Vabbè, insomma. Puliamo il bagno. Poi abbiamo intenzione di registrare un Get Ready With Me. Però, vabbè, insomma, sarà un video a parte e sicuramente lo vedrete dopo questo. Perché vi volevo dare delle news, diciamo, delle... Insomma, facciamo fare tipo aggiornamento sul matrimonio, visto che comunque... Insomma, le cose stanno andando avanti, anche se comunque alla fine è ancora presto. Però stanno procedendo... Stiamo procedendo, ecco. Passo dopo passo, piccoli piccoli. E quindi nulla, niente. Adesso, appunto, mi metto a pulire il bagno e ci vediamo dopo. A questo punto, direi, per pranzo. Così almeno vi faccio vedere magari che cosa preparo. Se mi ricordo di filmare, vabbè. Chissà che vlog verrà. Vabbè, vi dico, appunto, a parte lo struccaggio che veramente sono scena. Cioè, mi faccio paura da sola. A parte che sono fiorita, perché, cioè, ho tutti i brufoletti manco avessi 15 anni. E... Vabbè, insomma. Prendetemi così per come sono. Prendetemi così per come sono. Prendetemi così per come sono. Uno cerca di preparare da mangiare e poi... Cosa stai aspettando tu, scusa? Eh, me lo dici? Cosa vuoi? Non si vedrà niente perché in realtà siamo dentro alla macchina di mia mamma, vabbè. E sono quasi le sette e mezza e io sono uscita da poco dall'ufficio. Abbiamo portato Dianina al controllo del veterinario. Com'è andata, amore? E' andata tutto bene, amore? Non ho ancora in cielo da mamma. Boh, via. Se ne va. E no, appunto vi dico, è andata tutto bene. È un veterinario molto contento. Adesso dobbiamo portarcela di nuovo sabato, però ha detto che, insomma, è venuto un bel lavoro, è stata brava, è un cagnolino molto bravo, ci ha detto e, insomma, è forte. Eh, Topola, cosa stai guardando, scusami? Eh? In picciona? Chissà cosa guarda, vabbè. Adesso è andata un secondo mia mamma a prendere, insomma, le medicine e l'antibiotico che dobbiamo dargli, già da stasera e direi che poi torniamo a casa e vediamo un po' cosa fare. Perché non so, forse viene un nostro amico a mangiare la pizza da noi oppure, non lo so, non ho ancora capito bene. Comunque, vabbè, ci sentiamo dopo. Buongiorno e in realtà dovevo filmare ieri sera, diciamo, la chiusura del video, però non ce l'ho fatta perché ero a pezzi e quindi non sono proprio riuscita a filmare, diciamo, il pezzo finale del vlog. In realtà poi, appunto, ieri sera non abbiamo fatto praticamente nulla di che perché, appunto, siamo arrivati a casa, abbiamo sistemato Diana provvisoriamente, diciamo, di sotto. E quindi, insomma, praticamente abbiamo impiegato più o meno la serata a vedere come prendeva il fatto, appunto, di non stare fuori, però stare comunque giù di sotto in taverna e non magari con noi. Quindi, insomma, volevamo un attimo vedere la situazione com'era, comunque l'ha presa abbastanza bene, no, l'ha presa bene, direi. Anche se lei vorrebbe uscire, lei vorrebbe andare, eh sì. Però, quando c'è qualcuno, possiamo, se no, niente. Perché dobbiamo stare attenti a dove va, a dove non va. Quella c'ha sempre il naso per terra, c'ha sempre il naso in mezzo agli affari degli altri, quindi figuriamoci. E quindi nulla. Allora, appunto, poi, vabbè, siamo saliti, abbiamo mangiato qualcosa veloce, poi io mi sono infilata nella doccia, mi sono infilata nel letto, va, non c'ho capito più niente, perché veramente erano tre sere che non dormivo. E stasera ho dormito, però sentivo ogni tanto che c'era la mia caprizza giù di sotto che faceva casino, quindi, vabbè, dicevo, va, speriamo bene che non mi distrugga il tutto. Però, insomma, diciamo che è andata bene, dai. E quindi, vabbè, appunto, scusatemi se non sono riuscita a fare la chiusura del vlog. Comunque, diciamo che il vlog lo chiudo qua ora, augurandovi una buona giornata, perché oggi siamo al 22 di marzo, alla fine. E nulla, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, voi ne avete tenuta a me, perché, appunto, insomma, parlare, ok, con qualcuno, anche al mattino. Io, al mattino, solitamente, appunto, sono da sola, perché Marco va a lavorare, io, solitamente, resto a casa. Adesso a casa, comunque, insomma, faccio delle commissioni, ok. Però, parlare con qualcuno mi ha tenuto compagnia, come se avessi proprio qualcuno vicino. E, scusate se, appunto, non è proprio un video vlog, come quelli che, insomma, siamo abituati a vedere, no, di solito su YouTube. Perché non sono abituato proprio, non sono proprio abituata a farli. Quindi, magari, poi prenderò l'abitudine, magari ne farò uno ogni tanto. Però, vabbè, insomma, diciamo che, per il momento ve lo cucate così. Sì, niente, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!